La situazione dell'Italia è ancora difficile, afferma l'agenzia di rating Moody's. In un'intervista a Repubblica, Dietmar Hornung, analista e responsabile per l'Italia dell'agenzia, dichiara Non abbiamo mai pensato che l'Italia, come qualsiasi paese, potesse restare senza governo. Bisognerà verificare il mandato dell'esecutivo appena insediato e la sua capacità di affrontare con decisioni le imponenti riforme strutturali di cui il paese avrebbe bisogno per migliorare la sua affidabilità creditizia. Hornung sostiene poi che non è ancora possibile escludere che l'Italia possa chiedere aiuti alla Banca Centrale Europea. Per l'analista, il nostro paese è un paese in recessione, con una produttività inferiore rispetto ad altri paesi della periferia dell'Europa e con una debolissima domanda interna.